Abbandono, abbandono totale. Diciamo che questo paese è veramente sempre abbandonato a se stessa con questa nuova giunta comunale. Abbandono e degrado. Questa volta il grido d'allarme arriva dai residenti di Viale Ungheria, Via Scimaglia e dell'intero quartiere. Sotto accusa non solo le condizioni delle strade e delle scale attigue allo stadio, ma anche le avviabilità in zona. L'erba è alta, ci sono rifiuti abbandonati da mesi. Le scale che conducono Viale Aldomoro diventano impraticabili e poco sicure. Sono anni che c'è questo problema e non viene risolto. Anzi, in questi ultimi anni è ancora più abbandonato a se stesso. Praticamente non si può proprio attraversarlo, è impraticabile. Eppure queste scale vengono comunque utilizzate per raggiungere Via Aldomoro? Sì, sì. Ma purtroppo, per quanto noi si lamenta, ma il comune non fa assolutamente nulla per questa situazione. Vede, è abbandonato perché diciamo che non è che ci sono molte luci, perché molte persone preferiscono non andarci proprio. Lei li attraverserebbe di sera? Sinceramente no, ci penserei. Ma non solo delle scale, pure del campo sportivo, guarda. Perché? È bello, non penso proprio. Non è più una strada, non è più un passaggio. Ci sono solo macchine e questi... Non lo so, uno scempio proprio. Non c'è un sindaco buono a Torre del Greco. C'è molto degrado qui. È una bella lotta. E vedendo anche questa strada qui, così combinata, è una bella lotta anche con Via Cimaglia. E del resto con tutta Torre del Greco. E poi c'è anche un po' di problemi con la squadra di calcio qui a questa Via Lungheria. Purtroppo è diventata... Perché chiudono tutta la zona. Ormai è finito il campionato, ringraziando il Dio, non ci sarà più questo. Ma la nostra grande e bella Turris incomincia ad essere antipatica nel momento in cui si tocca la libertà delle famiglie, dei cittadini di uscire la domenica e non possono rientrare. Oggi con il caro Giovanni Palomba la macchina comunale non funziona. In quest'ottica e anche in altre ottiche. Purtroppo perché Giovanni è una persona veramente gradevolissima. Però non funziona, c'è questo risultato. Qua devono contribuire a pulire la strada gli extracomunitari, le persone di colore. Loro ci tengono di più, vabbè, perché magari guadagnano, però ci stanno... Chi dovrebbe farlo? Non lo fanno. E ha visto le condizioni di queste scale? Sì, e qua poi c'è il rifugio dei peccatori, fra virgolette. Ma la rabbia dei cittadini è legata soprattutto alla mancanza dei controlli sul territorio. Ci vorrebbe più controllo, più persone che controllano le varie zone. Purtroppo stiamo andando così. Un'altra cosa importante, quando c'è la famosa partita, non è giusto che si debba fare tutto un giro di torre. Se io presento che abito qua, tu mi devi concedere di andare a casa mia. Non mi devi far fare tutto un giro. Una persona anziana non è giusto. Non mi devi far fare tutto un giro.